Cora, hai deciso quanto fermarti? Sì, un anno. Allora farei tu la Vergine quest'anno? A me però non la fa mai fare. Un po' di rispetto. Cosa è stato? Sta venendo la fine del mondo. È alle porte, la fine del mondo. Io lo sento. È alle porte. Per vostra colpa, vostra colpa, vostra grandissima colpa. Un cartizio, quello con il cane lo conosci? Saverio. Ti rendi conto di quello che sta succedendo? Perché qui sono cresciuto. Oh! Cosa vuoi che faccia? Il sindaco. Non possiamo mandare all'aria tutto quello che abbiamo messo in piedi. Allora lo conosci. La nostra è un secco di anni fa. Mi chiedo piuttosto se non sia il caso di avvertire le autorità. No, ma cazzo, smettila! Non dirmi quello che devo fare o non fare a casa mia. Perché sei qui? Si dicono molte cose su di te. A fare la puttana con lo straniero. Vi lasciamo fare quel che vuole, eh? Non possiamo cedere alla tentazione del marino. Siamo in un luogo sacro. Margherita, non dimentichi che Dio ci guarda. couldale, sono in un luogo sacro. Grazie a tutti.